Pala con friarielli e anduja Sulla pizza in pala andiamo ad aggiungere la mozzarella, la scamorsa fumicata e i friarielli e poi andiamo in cottura in forno Possiamo utilizzare un forno a convenzione, come in questo caso, oppure un forno elettrico mettendo la pizza in pala direttamente sulla griglia Possiamo utilizzare anche un forno da pizza mettendola direttamente sulla pietra In uscita aggiungiamo l'anduja E ultimiamo con i germogli e la nostra pizza è pronta